Squalifica ridotta di una giornata, Capozzi e Varsi saranno a disposizione per la trasferta di L'Aquila, sconteranno l'ultimo turno di stop contro la Recanatese, attesa Romagnoli sabato 10 marzo. Otto giorni per lavorare intensamente e preparare il match nei minimi dettagli, recuperando gli infortunati, Carbò e Marzano alle prese con risentimenti muscolari. A proposito dell'attaccante della Sierra Leone, piace a tante formazioni professionistiche, su di lui anche un club di Serie A, la fonte autorevole e responsabile dell'area tecnica Tonino Minadeo, ospite ieri sera di Molise Sport, trasmissione in onda tutti i giovedì alle 21. Senti ma è arrivata qualche telefonata a te, ad altri dirigenti, c'è in tribuna qualche emissario di società importanti? Ma guarda, interessamento Piero, proprio ieri a me personalmente è arrivato un interessamento che non vale la pena dire alla squadra, ma è una squadra di Serie A. È un interessamento diciamo tecnico a livello esplorativo, non è sicuramente un interessamento che domani lo vengono a prendere, però mi hanno chiesto. Ieri un club di Serie A ha avuto un interesse particolare per il nostro Augustus. Grazie. 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 Grazie.